Obiettivo 7. Promuovere accesso a energia pulita e a buon mercato per tutti. Ad oggi i sistemi energetici sono elementi fondamentali per la vita quotidiana di tutti noi. Per questo una tappa importante è quella di renderli accessibili a tutti e di utilizzare il più possibile fonti di energia non inquinanti e rinnovabili. Su nuovi giorni, in una lacrima, come un sole e una stella, siamo luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra. Un futuro migliore inizia adesso e parte dall'impegno di ognuno di noi. Se vuoi far parte del cambiamento, mettici la faccia.